Musica E ciao a tutti amici sono sempre io Gold e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica TechPlace Rieccoci su Space Engineer con Mattia E oggi ragazzotti iniziamo con la prima di due puntate Nelle quali usciremo finalmente dal pianeta Allora ragazzotti in questa puntata andremo ad occuparci delle ultime cose cioè dei dettagli della nave e della capsula E Mattia mi darà una mano ovviamente Nella prossima puntata invece usciremo finalmente da questo maledetto pianeta Quindi Matt non perdiamo tempo e finiamo questa schifosa maledetta ma anche bella nave Ho una domanda saluto perché non c'è la mano in alto quindi saluto Ma ho di così tanto sto pianeta che vuoi andartene Sì immagina i 60 fps fissi immaginali Ecco sono lassù sono lassù io voglio andarci Sono lassù e dove? E dove? Vieni da me E sarebbe bello Noi Va bene dai andiamo Quindi io devo occuparmi della colorazione della nave ragazzi quindi vediamo E io invece di tutto Secondo te muoio se casco? No no non muori tranquillo Au Hai preso danno ma non sei morto dai Tanto le gambe ti ricrescono o no? No non sono una stella marina Ok quindi allora adesso dalla parte dell'hangar faremo il sistema di refueling Quindi devo costruire Madonna quanto devo costruire Comunque un sistema di trasportatori con tanto di pistone Oddio Ma tipo che potrei sostituire qua dietro un motore per un attimo con un connettore E fare il refueling da dietro Non sarebbe male direi Vediamo un po' com'è Ok forse forse ci siamo quasi abbiamo fatto tipo le peggio manovre per metterlo così Tipo che ho staccato la nave senza propulsione e l'ho girata sul connettore Tipo cose antifisiche Ma come vedete è ancora da sistemare Quindi adesso vado a fare la stessa cosa che ho fatto prima E devo girare la nave verso sinistra così che il retro sia verso destra Oh mio dio Tipo salvo sempre perché ho paura di ribaltare la nave Io voglio morire Allora ragazzotti sostanzialmente la nave è un po' sfalsata ancora dal connettore Ma nessun problema spero Vieni a vedere Vieni a vedere Matt Qua sopra Vieni a vedere Guarda Ho paura adesso Questo qua è il nostro sistema di refueling E guarda quanto manca Guarda quanto manca Ma che cosa? Sì praticamente Quindi adesso vado di nuovo a girare la nave Ma questa volta non taglio Lo faccio vedere come faccio No Quando siamo pronti? Ti dico io Ok va bene Allora quindi devo di nuovo girare la nave verso Sinistra Davvero? Si è crashato? Ho fatto crashare il gioco Ok allora aspettiamo Matt Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Aiuto Questo sapete cosa vuol dire? Che tipo la nave è pronta per il refueling Ed è pronta per partire Volendo Cioè ancora non del tutto Ma volendo è pronta per partire Cioè wow Wow No davvero A parte gli scherzi ragazzotti Questa qua era tipo una delle parti più difficili di questa puntata E siamo riusciti a farle Mattia tipo è morto nel processo Tipo credo gli sia crashato l'intero computer Comunque Comunque tranquilli Ritornerà Io nel mentre Ragazzotti Vado a performare l'azione della giornata Connettendo Il connettore Che a quanto pare Si è connesso Oh mio dio ragazzotti Wow Wow davvero tantissimo Allora ragazzotti Un altro dei cambiamenti che abbiamo apportato di Mattia Era quello degli airlock Sostanzialmente in tutti gli airlock Che dovrebbero essere pressurizzati Abbiamo rimosso una pulsantiera Ma Non l'abbiamo fatto per questo Cioè vi spiego In questo modulo qua ragazzotti Cioè il modulo reattore Non ci sarà ossigeno completamente Così come nel modulo produzione Dentro il quale non dovremo mai andare E così come nel modulo Ce n'era un altro Modulo hangar Che poi è una passarella Che è questo qua Quindi anche qua ragazzotti Noi dobbiamo mettere Delle pulsantiere Vi spiego il perché Sostanzialmente L'airlock non è automatizzato Quindi dovremmo Prima o poi Entrarci E depressurizzare Manualmente La zona Quindi per farlo Qua ragazzotti Andiamo prima di tutto Pulsantiere a reattore Andiamo nelle azioni E configuriamo le porte Prima di tutto Quindi porta Eh adesso Trovarla Porta esterna Refueling Porta interna Cabina Reattore Porta interna Reattore Aperta Chiusa Che è questa qua Porta Porta esterna Adesso mi serve Porta esterna Angar Reattore Aperta Chiusa Dopodiché dobbiamo andare in Airlock E qua Troviamo tutti I condotti Di ventilazione Quindi cerchiamo Airlock Reattore E non c'è Perché effettivamente Non l'avevo ancora configurato Quindi questo qua Ragazzotti Sarà il nostro Airlock Reattore Ok Airlock Reattore Perfetto Adesso andiamo a configurare Il blocco Di nuovo C'è il bottone Non il blocco Reattore Perfetto Depressurizza On Off Perfetto Ragazzotti Adesso vado a fare La stessa cosa In quegli altri due moduli Che avevo detto Veramente solo uno Che è quello passerella Che è questo qua Oh mio dio Mi perdo nella mia stessa nave Questo qua ragazzotti È stato molto più semplice E veloce Allora Quindi Nel mentre che torna Mattia Ragazzotti Io direi Che inizio a progettare Quella che sarà La capsula O le capsule Che ci porteranno Veramente una capsula Che ci porterà a terra Vi dico Velocemente le caratteristiche Allora Sostanzialmente Sarà Molto piccola E sarà guidata Da un controllo remoto Quindi ragazzotti Noi non controlleremo La La nave Ma anzi Essa si controllerà da solo Perché andrà Di Di controllo Automatico Pilota automatico Attraverso delle coordinate GPS Che stileremo Durante la La salita In orbita Vi ricordo ragazzotti Che questa nave qua Andrà semplicemente dritta Quindi non farà altro Almeno per un po' Di tempo Poi quando saremo su Inizieremo Lo scavo La termineremo Quindi sostituiremo La maggior parte Dei blocchi Scusate Dei motori Con motori ionici E inizieremo Gli scavi del platino Questo qua Veramente prima Per costruire tutto il resto Dopodiché Inizieremo a Oddio lastre Inizieremo A sganciare Satelliti E insomma A colonizzare Un po' Lo spazio Ragazzotti Stavo gestendo Un attimo L'idrogeno All'interno Dei serbatoi E si è tipo Acceso tutto Quindi fatemi Spegnere Motori Motori H Off Perfetto Beh Questo è un buon segno Il che vuol dire Che effettivamente I serbatoi Funzionano E effettivamente Sono connessi Quindi H-Tank Andiamoli a cercare H-Tank Eccoli qua H-Tank 0% 0% Digo Immagazzina On Immagazzina On Grazie Teoricamente Adesso dovrebbero Immagazzinare Mentre questi No Dovrebbero Non immagazzinare Quindi andiamoli a cercare H-Tank Immagazzina Off Immagazzina Off Oh ragazzi Si stanno riempiendo E' bellissimo Questa cosa Davvero davvero bella Guardate come si riempiono Velocemente Per fortuna Meno male Aggiungerei Ed è possibile Che dovremmo Effettivamente Raccogliere ghiaccio Per questo Manderemo a Matt Probabilmente Quindi Abbiamo I due tank Praticamente pieni Sono al 90 90,99% Di Quantità Immagazzinata Bene Bene E' stato Un po' Un problema Configurare E trovare Tutti I tank Giusti Però ce l'abbiamo Fatta Alla fine Ragazzotti Mi stavo chiedendo Chissà se da qua Effettivamente può arrivare L'uranio E no Non può arrivare Perché probabilmente C'è qualche filtro Che glielo impedisce Comunque considerate Che quando ce ne andremo Da questa base La ripuliremo Completamente Ma daremo un bel po' Di Energia di backup Per così dire Daremo praticamente Alla base Una grandissima quantità Di uranio E la metteremo Quasi offline Semplicemente Trasmetterà Un segnale Giusto per dire Che effettivamente C'è E noi potremo Comunicare con essa Comunque ragazzotti Prima di andarcene Attaccheremo Tramite segnali Di antenne laser Questa base Con la nostra nave Anche se effettivamente Il raggio è di 40.000 metri In qualsiasi caso Saremmo in range Per le antenne Che comunque Trasmettono a 50.000 metri Quindi ragazzotti Per quando ce ne partiremo Applicheremo Una modifica Che praticamente Con un blocco Ragazzotti Faremo sì Di svuotare Completamente la nave Scusate La base E sto parlando Di questo blocco qua Semplicemente Questo filtro Ci permetterà Di svuotare In un colpo solo Tutta la base E trasferirla Sulla nostra nave Cioè effettivamente La nostra nuova base Comunque adesso Ragazzotti L'ultima cosa Che manca da fare È ancora un po' Di ottimizzazione Nell'hangar Perché ovviamente Vogliamo fare le cose Fatte bene E belle E costruire la capsula Ma per costruire la capsula Effettivamente Devo fare qualche prova Quindi 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 Io Mi sa che mi sposto In creative E ci becchiamo Praticamente Nel mondo Dove dovremmo testare Le cose Bene ragazzotti Eccoci qua Questo qua È lo I Hem Orbital Exchange Module Sarà la capsula Che poi effettivamente Non è una capsula Ma è il modulo Che porterà me E Mattia Dall'orbita Alla terra E dalla terra All'orbita Sostanzialmente Appunto Semplicissimo Abbiamo un generatore Assolutamente Tutto quello che deve E ovviamente Adesso vi faccio vedere Quindi ragazzotti Allora Andiamo nel modulo Nel controllo remoto E mettiamo No Ok Questa qua Uno Guardate 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 che carino Che è Parti 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 Tenerissimo E sostanzialmente Ragazzotti Questo modulo qua Vabbè Per il nostro survival Sarà decisamente Diverso Perché ci saranno Solo due gps Cioè la partenza E l'arrivo E praticamente Dovremmo scendere Diretti Velocissimi E questo piccolo drone Chiamiamolo modulo Si gestirà Da solo La frenata In caso ovviamente Di problemi Prenderò io O Mattia Il comando E salveremo La situazione Spero Quindi adesso ragazzotti Molto semplice La capsula Verrà creata E nella prossima puntata La vedrete Attaccata lì Stessa cosa vale Per il drone Il drone ragazzotti Ce l'ho già Nei blueprint L'avevo già progettato E adesso Vabbè si Ve lo faccio vedere Al volo Con uno space master Eccolo qua Dov'è Drone 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 Scavo orbitale Eccoci qua E questo qua ragazzotti Sostanzialmente Anche questo Tutto a idrogeno Ma ovviamente Più avanti Verrà sostituito Con Propulsione ionica Perfetto Ed entrambi i ragazzi Li vedrete Attaccati lì Alla banchina Alla passerella Chiamatela un po' Come volete Quindi ragazzotti La puntata di oggi Termina qua E preparatevi Perché la prossima Sarà davvero Davvero Intensa E piena di contenuti Soprattutto perché Ovviamente Lasceremo questa base E per un po' Non la vedremo E soprattutto perché Rischieremo la vita Tentando un viaggio Con questa nave Costruita Un po' Ad culum Comunque Io vi ringrazio Per la visione Mi invito a lasciare Un mi piace E un commento Dicendomi cosa ne pensate Di questo episodio E di quello Che verrà Io sono Gold Ragazzotti Vi ringrazio Per la visione E noi ci vediamo Al prossimo video Bye bye Ciao